Corteggiare questa mammola che sembra aver vinto, governa di qua, mette alla camera fico, è una cosa di pazzi, il 68% degli italiani non vogliono i 5 Stelle e il 60% del Nord non li considera neppure, allora dividiamo l'Italia, deve governare Di Maio, governi dove ha vinto e dove ha vinto, vinto dove non c'è un'economia vincente, dove c'è un'Italia disperata, dove lui ha introdotto il voto di scambio, ha introdotto il voto di scambio, è stato condannato un medico, per 60 voti e 3.000 euro, tu non leggi forse le cronache sigiliane, questi hanno promesso, altrimenti non ti stupiresti, voto di scambio e prendo 11 milioni di voti, 11 milioni, non 60, 11 milioni di voti, è detto niente, rubandogli, è di italiani illusi e disperati, italiani illusi e disperati vanno processati per voto di scambio, non c'è altra cosa, ma sono italiani quelli del Nord come quelli del Sud, ma che dici? Sono italiani quelli del Nord come quelli del Sud, uguali, hai promesso quello che non puoi dare, hai promesso quello che non puoi dare, ma voto di scambio, l'ha promesso tutti, Vittorio, queste sono elezioni, l'hanno promesso loro, l'hanno promesso loro, l'Italia che lavora non ha accettato quel ricatto, era un ricatto, è voto di scambio, è mafia, d'accordo, tu pensi che la flat tax sia una roba da fare in 5 minuti? In altri paesi esiste, non esiste nessun uomo, con il demito che c'ha, ti faccio leggere qua, voto di scambio, medico dato a 3 anni per 3.000 euro in cambio di 60 voti, 60 voti, non 11 milioni, devono avere 30 anni di galera, 30 anni di galera, arrestati di Maio, deve essere arrestato, ma che c'entra di Maio? No che deve andare a governare quel figliettino, roba da pazzi, corteggiare questo morticino come se avesse vinto, ha perso, è arrivato secondo, non si tratta, voglio Berlusconi, voglio solo la Lega, ma chi cazzo è? Cosa pretende? Cosa vuole? Voglio Berlusconi, ma chi non vuole? Ma chi sei? Nanerottolo, ignorante, torna a scuola, torna all'asilo. Io li ritengo un partito fascista che va sciolto, li ritengo un partito fascista che ha un capo lontano, che non prende voti, ma li cala su di loro per irradazione mediatica, una cosa ripugnante, una specie di persuasione occulta di un popolo disperato che si attacca a questi incapaci e inetti, li ritengo fascisti e nazisti, li ritengo nemici assoluti.